Valentina, Valentina, non gli va, non vogliono parlare, Valentina Arrighetti, uno scudetto grandioso, avete fatto una grande partita, un momento di difficoltà nel primo, poi solo Bergamo, l'ottavo scudetto, il tuo primo scudetto. Sì, il mio primo, e non sa cosa dire, scusate. Ma questo è il bello, vedere anche la felicità di queste ragazze che sono arrivate a prendersi questo scudetto importante, 150 anni l'Unità d'Italia. Bellissimo, grazie. Grazie.